E' partita oggi con interventi in Viale Gramsci, via Giordano Bruno e in via Giustiniani l'iniziativa Quartiere Pulito che prevede il diserbo, il lavaggio e lo spazzamento delle strade cittadine, un piano straordinario per intensificare le attività di pulizia sul territorio, fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e realizzato con il coordinamento dell'assessorato all'igiene urbana in tutte le municipalità. Stamattina ha avuto inizio questa importante iniziativa, Quartiere Pulito 2023, che prevede pulizia delle strade, del lavaggio dei marciapiedi, ma anche di serbo, ma soprattutto anche pulizia delle aree delle campane, le quali vengono sollevate. Sono circa 60 le operazioni già programmate in questa prima fase dell'iniziativa, che prevede anche la rimozione dei cassonetti e la pulizia nelle ore notturne delle aree sottostanti le campane. Il calendario attuale prevede mensile, ma allo scadere di questa prima fase verrà pubblicato un secondo calendario e così via, in modo tale da far diventare, man mano che aumenta la sostenibilità non solo della SIA, ma anche della pulizia municipale, che fuoriesca questo tipo di intervento dal progetto Quartiere Pulito e diventi un intervento mensile. Realizzati in collaborazione con l'assessorato alla pulizia locale, la SIA e le municipalità, gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni in altre strade, in cui è temporaneamente vietata la sosta dei veicoli per consentire il regolare svolgimento delle operazioni. I rifiuti stratificati vengono ripuliti in maniera radicale per ridare condizioni di decoro e di igiene alla città. Sono state rimosse sì alcune autovetture, probabilmente perché oggi è il primo giorno di iniziativa, ma io sono certo che per il futuro i cittadini comprendano l'importanza di queste operazioni di igiene straordinarie della città e diano disponibilità a non far trovare le macchine sul posto. Il calendario completo è consultabile sul sito del Comune.